Petrosian Mania è un gala di kickboxing, Muay Thai ed MMA organizzato dai fratelli Arme nel Giorgio Petrosian. Giunta la quinta edizione, il professionista Fabrizio Ruggero nato a Crotone si è confrontato con Davide Maggio, vincendo il match. Pesi 62 kg, tre round per tre minuti, la gara si è disputata a Bofaloro sopra Ticino, in provincia di Milano. Pronto? Pronto Fabrizio, complimenti per la vittoria. Ciao, 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 grazie mille. E' andata bene, mi ero preparato molto bene con i miei maestri Giorgio e Arme Petrosian, allenamenti molto duri e comunque miravamo a questo risultato e l'abbiamo ottenuto. E' stato un duro match. Ti sei confrontato con Davide Maggio? Sì, sì, avversario molto forte di una scuola molto buona di Genova e quindi è stato un match duro. Però dai, siamo usciti vincitori. Come si è presentato lui? Si è presentato bene, anche lui molto allenato, duro, era forte. Meno ormai ce l'aspettavamo noi. Perciò diciamo che non ci ha impressionato dai. Adesso ti stai preparando per le selezioni dell'Octagon? Sì, sì, adesso miro alle selezioni Octagon, che il mio maestro Arme ha detto che presto me le vuole far fare. Così alziamo sempre l'asticella, no? E quindi ci punta ad Octagon. Gli allenamenti come procederanno? Eh, questo me lo dirà il mio maestro. Questo aspetto a lui dirmelo. Comunque allenamenti sempre più duri, ovviamente, per ottenere risultati migliori. Crotonense di nascita, ti sei trasferito a Milano per gli studi. Hai deciso di seguire... Sì, sì, io già combattevo giù a Crotone, però il mio sogno ovviamente era quello di allenarmi con Giorgio Petrosia, neanche Arme in Petrosia, no? Che sono i più forti in questo sport, quindi appena ho avuto la possibilità, sono andato lì con il loro team. Quando ti rivedremo a Crotone? Grazie a te, Fabrizio. Eh, spero Pasqua. Adesso ho un incontro l'11 marzo, quindi spero Pasqua. Complimenti Fabrizio e grazie per questa intervista telefonica. Sempre in alto. Grazie a te. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.